Si è svolta senza problemi la manifestazione Rimini Amore, prevista per ieri pomeriggio in piazza Cavour in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, che ha visto come ospite d'onore Vladimir Luxuria. Piazza presidiata da polizie e vigili pronti ad intervenire dopo che Forza Nuova aveva annunciato l'intenzione di agire durante la manifestazione. Il pomeriggio, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, si è svolto senza scontri con interventi di istituzioni, associazioni, musica e danze, che si sono alternati fino all'arrivo attorno alle 18 di Vladimir Luxuria, che ha commentato le terminologie usate all'interno dei volantini di Forza Nuova. Io credo che la differenza maggiore tra eterofobia e omofobia è questa. L'omofobia esiste, l'eterofobia non esiste. Gli eterosessuali sono persone che rispettano gli altri, ma c'è un'altra categoria che sono gli eterosessisti. Gli eterosessisti sono quelle persone che hanno attrazione verso persone del sesso diverso, ma che credono che questa loro preferenza, questo loro orientamento sessuale debba essere usato come arma per far sentire inferiori persone che invece hanno un orientamento sessuale diverso. Persone che credono che questa che dovrebbe essere una qualità neutra debba essere usata per far sentire le altre persone non degne di avere gli stessi diritti.